Con voi non ci posso più parlare, siete troppo immaturi. Che cosa? Devo cominciare a stare con dei ragazzi che siano un po' più intelligenti e capiscano la politica e il resto. Il fatto è che io sono a questo livello qui e i miei amici sono qua sotto. Non sai neanche di che parli, chi appoglio? No, 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 no. Io, gna. Voi, gna. Forse un po' più, più. Più gna? Fatevi un clistere, io me ne vado a casa. Sono Bill Curtis. Sono più grandi dei miei amici. Devo vedere persone più mature, Rana Clyde.